BCC forderonese coniuga tradizione e innovazione tecnologica, crede nei giovani e vuole investire su di loro, per questo ha sviluppato BCC Generation. I giovani che scelgono il conto BCC Generation sono pronti, attenti e vincenti, perché scelgono una banca che li mette sempre al primo posto. Ecco l'amo, di nuovo assieme e felicissima giornata, avventura e mistero, fascino e luoghi meravigliosi, da Venezia al nord, dal nord a Creta, poi a Cipro, il Mont Inter, amori impossibili e furtivi alla ricerca dell'oro interiore, ovvero quello più luccicante, quello più affascinante, cioè l'equilibrio, la saggezza, la pace profonda. Il tutto in questo romanzo che io qua, e adesso la regia ce lo farà vedere a pieno schermo, l'oro di San Marco. Piero Favero, eccolo lì, Piero Favero è l'autore, è il signore che è qui accanto a me, che è il Fantacca, le chiede oggi di me, e lo accompagna, la signora Barbara Bacchetti, che è invece, ecco, la Barbara è qua, e come lettrice oggi, un particolare interessante che per chi ci segue, chi ci ascolta, potrà generare un consenso immediato, Barbara è la moglie di Piero, Piero è il marito della Barbara. Grazie, bene arrivati, ascoltami Piero. Allora, l'oro di San Marco, chi è il protagonista e soprattutto in quale epoca incomincia il fascino, il mistero? Dai. Il protagonista è un popolano veneziano, un mosaicista, e quindi un personaggio che ha delle abilità personali, direi quasi artistiche. All'epoca i popolani avevano queste possibilità per esprimersi, e lui è un artigiano, un mosaicista proprio della Basilica d'Oro, cioè della Basilica di San Marco, e da lì nasce la storia. Qui vediamo un mosaico di grande bellezza in realtà, da tutto il mondo, dal Giappone, dall'America, vengono a visitare Venezia, spesso noi abbiamo dei tesori sotto gli occhi e non ce ne accorgiamo, basta entrare dall'ingresso principale, subito alla sinistra c'è la cupola di Giuseppe, è la storia che noi troviamo nella Bibbia di Giuseppe, ed è, si può dire, il primo romanzo dell'umanità, questa vicenda di Giuseppe. Beh, anche questa è interessante, è una novità. Grazie, allora abbiamo iniziato, abbiamo esordito l'Oro di San Marco, Piero Favero, avremo occasione e circostanze di vederlo più volte nel corso della puntata, andiamo a sentire la voce di Barbara, con oggi la Barbara bionda, affascinante lettrice, con il primo passo, Barbara. Non appena imbocco l'inizio della stretta e lunga calle spadaria, ecco sullo sfondo uno spicchio della basilica, una stretta fascia verticale adorna di medaglioni scolpiti. Salgo i gradini che sopraelevano la piazzetta dei leoncini e faccio una breve sosta, seduto sul bordo del pozzo a osservare la basilica d'oro. È uno spettacolo che toglie il respiro. Le mura massicce, interrotte dalla magia colorata di piccole vetrate al centro degli archi, sono sorte sulla reliquia del corpo di San Marco, trafugato da Alessandria d'Egitto, da due mercanti veneziani. Per scongiurarne il furto, la reliquia è stata nascosta nella basilica, in luogo segretissimo, talmente segreto che adesso nessuno sa più dove sia. Ecco, allora ritorniamo a Piero. A che punto siamo? Siamo nel 1250 in pieno medioevo ed è l'epoca di Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e quindi una figura eccezionale per cultura, anche a Palermo aveva radunato veramente una corte eccellente. Il 1250 è proprio l'anno della morte di Federico II e Federico II viveva nel mito della fine dei tempi e quindi questo avvenimento, la morte di Federico II, sarà un qualcosa che scuote profondamente il protagonista perché c'era un significato quasi escatologico, cioè di destino dell'umanità, la fine di questo regno di Federico II, di questo impero. Perfetto, perfetto, perfetto. Io ero coinvolto nella narrazione. Come si chiama il nome di questo ragazzo, di questo esperto mosaicista, dell'arte musiva? Dunque, lui si chiama Petrangesio ed è come dicevamo un popolano che abita a Venezia e parte. Un altro personaggio importante è un greco, si incontreranno fatalità in prigione e nei pozzi che erano le prigioni praticamente sotto il livello dell'acqua e quindi a rischio anche alle volte di essere inondate e per questo motivo le chiamavano i pozzi. Questi sono i due personaggi principali. Dal greco questo mosaicista imparerà molte cose sulla cultura, sulla tradizione, sulle divinità dell'antica Grecia. Perfetto, andremo avanti nella narrazione perché avendo io scorso, è insomma è uno un po' intraprendente, è giovane, ha la vinciare in il fantasma. 28 anni. 28, per cui è un tipo furbetto, lesto, ci sa fare. Non è cattivo, però non è neanche lo stinco di tanto. Perché è organizzato sicuramente, ma la vita è questa. Se non fosse così, che emozioni ci sarebbero? Grazie. Allora, adesso ti pongo ancora una domanda. Entriamo in una con una parola che già di per sé contiene dei misteri, l'alchimia. Di che cosa si tratta? Poi vediamo una foto e poi sentiamo la Barbara. Già nel titolo c'è l'oro. Eccolo là. Quindi per il personaggio è un miraggio la fabbricazione dell'oro. L'idea che si ha in genere degli alchimisti è come dei personaggi che rincorrevano delle chimere, dei sogni irrealizzabili. In realtà la trasformazione del piombo di un metallo in oro è stata ottenuta in laboratorio ai primi di Novecento. Quindi è incredibile, però gli alchimisti sono in realtà dei pionieri, dei precursori. Senza l'alchimia non ci sarebbero state poi la chimica moderna e la fisica moderna. E addirittura certi concetti, la polarità, il sole, la luna, che però sono espressioni di un'unica cosa, troviamo sotto forma diversa anche nella fisica moderna. Per esempio un elettrone è un'entità, però è sia puntiforme sia è un'onda. Quindi due aspetti che apparentemente sono contraddittori uno con l'altro che però in realtà si armonizzano. Quindi questa idea di armonia, di complementarietà degli opposti era nell'alchimia ma c'è anche nelle ultime conquiste della fisica e della scienza moderna. Grazie, grazie Piero che noi apprezziamo l'esposizione, la narrazione come si dice in questo caso e questa è anche una spiegazione scientifica, dovete sapere che di mestiere il giovanotto è un medico, è un miele che ti cura e che ti senza i tuoi dei malati, però è un esperto anche di altre arti. Adesso ritorniamo dalla Barbara e sentiamo un dettaglio di questo passo. Dai Barbara. Perché non mi accontento dell'onesto, di quel po' di positivo che ho costruito nella mia vita? Sì. Sì, d'accordo. Sono stimato, rispettato all'interno della mia corporazione e il salario di arcigiano addetto ai mosaici è sicuramente superiore a quello di un semplice manovale, ma non posso certo fermare di nuotare nell'oro. L'alchimia invece mi permetterà di raggiungere possibilità economiche superiori a quelle di un agiato nobiliuomo. In effetti, ragioniamo seriamente, per un artigiano esiste forse alcun mezzo lecito per ottenere la ricchezza? Bellissima, bellissima questo interrogativo. Regia, ci fai vedere? Eccola là. Ecco, questa è l'alchimia. Noi vediamo appunto l'idea degli opposti, il sole e la luna, che però nell'alchimia non sono altro che due aspetti di una stessa cosa, di una cosa doppia, come fosse una medaglia con due facce. E questo è un concetto che, come dicevo prima, è attualmente moderno, profondo. E il gallo che è là sotto? E il gallo così è lì per osservare il mondo, il panorama o ha un significato? Ma diciamo, nell'alchimia non c'era mai niente di casuale, in questa raffigurazione, probabilmente aveva a che fare con qualche metallo, era un riferimento ad un metallo. Perfetto, grazie. Allora, l'oro di San Marco, romanzo saggio che parte da Venezia, arriva in Friuli, arriva al nord, dopo in Grecia, nel mare, le cicladi e le crete corfu, una roba strepitosa, meravigliosa, l'autore è il signore che è qui accanto a me, vedete il nome scritto là in alto, Piero Favero, e la Barbara, che è la signora qui accanto, oggi come lettrice, è la moglie, sono marito e moglie, ovviamente. Allora, esordendo, io mi riferì a avventura, mistero, fascino, c'è più mistero o avventura? Ma c'è l'uno e l'altro, diciamo, i lettori sono sempre attirati dal mistero, come per esempio nei gialli c'è una lettura vincente perché si vuole scoprire chi è l'assassino, quindi il mistero è sempre un qualcosa che lega, che interessa. In più c'è l'avventura, anche questo è un tema che attraverso una lettura piacevole, divertente, e introduce verso ambienti, verso situazioni che hanno a che fare un po' con la cultura nostra più antica, perché il protagonista andrà in Grecia, appunto a Creta, già sappiamo che l'ambiente è un qualcosa di eccezionale, ci sono certe spiagge che sono le più belle al mondo, sicuramente classificate, e l'avventura è dovuta al fatto che questo protagonista è costantemente in fuga. Perché? Per una sorta di malinteso, lui era convinto di essere inseguito dall'inquisizione, perché si interessava di alchimia, in realtà poi capirà verso la fine, non vorrei anticipare... No, no, aspetta, non vorrei anticipare... Sì, 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 no, che non era propriamente così. Allora, vediamo un'immagine, eccola là, Oh, che bella, questi sono dei colori... Diciamo che... Ah, questi sono... Ma... Questa è Venezia, beh, è una fotografia fatta nell'ultimo carnavale di quest'anno, no? Sì, sì, bellissima questa. È protagonista, è sempre in fuga, però a un certo punto la nostalgia di Venezia vorrebbe tornare, l'unica possibilità è tornare con la maschera. Tornare con la maschera. E qui continua l'avventura, perché con la maschera possiamo immaginare che tipo di avventure si possono... Si possono avere, sicuramente. Anche questa è una intuizione interessante, perché nascondendosi, uno si nasconde comunque il viso e gli occhi, e quindi dice chissà quali risultati e quali... Nel Medioevo le maschere erano molto semplici, erano o bianche oppure con dei veli, dei stracci anche colorati. Comunque era sempre... Però c'era uno spirito molto vivo. Usavano colori naturali. Usavano colori naturali. Grazie Barbara. Allora, andiamo alla terza lettura che è strettamente collegata ai due vocaboli che abbiamo evocato, mistero e avventura. Barbara. Ero bambino e quella maschera, ricordo, mi fece prendere un gran bello spavento. L'avevo scorta nella calle, stava in piedi appoggiata al muro di una casa, giusto davanti al davanzale della finestra. Reggeva una maschera a due faccia che non mi consentiva di distinguere da quale parte stesse la vera testa. Psst, 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 mi chiamava e con una specie di rebus mi interrogò circa la sua ambiguità. Com'è che da cosa doppia nasce la cosa unica? Diste con voce bitonale, facendo gesto di avvicinarmi. Mamma mia, qui siamo veramente nell'intrico, no? Nell'intrico anche lessicale, anche proprio concettuale. Senti Piero, la cosa doppia, la cosa unica, la voce bitonale, c'è Robonis. Qui ambiguità è complessa. Eh certo, ambiguità. Allora, dai, spiegala, spiegala. Ma praticamente il mistero è qualcosa che rimane sempre in sospeso. Nel senso che si pensa di avere capito, però qualcosa fino in fondo rimane sempre incognito. E questo è quello che si diceva prima, no? L'aspetto degli opposti, dei complementari, che in realtà sono un'unica cosa con due facce. Una medaglia con due facce. Sì, sì. Senti, ma questa inclinazione, Piero, adesso andiamo a scoprire un po' un aspetto, una sequenza della tua personalità, se ciò fosse lecito e possibile. Questo interesse verso il mistero e l'avventura, che è molto lontano dalla concretezza e dalla praticità, vorrei dire, della professione medica. Ma, insomma, anche i medici... Sì, abbiamo molti misteri, abbiamo anche... E' venuto spontaneo, non era preparato. Anche i medici hanno un'anima, hanno delle... Eh? Che cos'hanno, Piero, i medici? Eh? Cioè, questa tua inclinazione... Ma i medici esistevano anche nel Medioevo e praticamente nel loro prontuario c'erano anche dei farmaci derivati dall'alchimia. Quella volta era normale. Non me lo dice, Barbaro, non me lo dice. E' un mistero. E' un mistero. Nel senso che misteri ci sono anche nella scienza moderna, perché tante cose non si sanno. Ti credo, ti credo. Anche a livello di tutte le branche scientifiche, non solo della medicina, sono tantissime cose che non sappiamo. Anche nella fisica moderna, nella chimica, ovunque rimane un qualcosa che ancora non conosciamo. Non conosciamo. Chissà se conosceremo mai. Comunque tu sei attratto, sicuramente attratto, perché non è la prima volta che vieni qua e parti da Venezia con le tue narrazioni. E ci deve essere qualcosa di segreto, Barbaro, che parte da Venezia. Allora leggiamo perché abbiamo capito, te hai citato la Grecia, il mare Lellade, questo mare classico, meraviglioso, stupendo. Basta pensare a Zacinto di Ugo Foscolo e lì il mito diventa realtà. Allora sentiamo. Gironzolando oltre i margini della strada, con gli occhi fissi a frugare il terreno, mi ritrovai attonitro tra l'erica e i tulipani. Dall'alto di una rupe a strapiombo sul mare, osservavo incantato i gabbiani, che volteggiavano a volo radente, in basso e inottananza, simili a puntini bianchi su un blu intenso, che si perdeva all'infinito, senza apprezzabile confine tra il cielo e il mare. Fu allora che capì perché gli antichi avessero eletto quest'isola a culla e dimora degli dèi. Immersi in un ambiente di tale bellezza, sorge del tutto spontaneo pensare al divino e creare miti immortali che diano anima e poesia a un qualcosa che ovunque in questa terra si respira e si avverte. Guarda, guarda, guarda Piero, hai una lettrice che è straordinaria, eccezionale, che rende e fa rendere in modo... Sembra di essere lì. Sembra di essere lì, in modo superbo quello che legge, ma anche il narratore, voglio dire, colui che stende materialmente, perché è un linguaggio, credi a me, è un linguaggio veramente ricercato e raffinato. Ad ogni buon conto, basta con i complimenti, perché sono andato... Ascolta, in che isola siamo, come e perché? Siamo a Creta, siamo a Creta e come dicevamo prima ci sono dei posti che hanno qualcosa di magico. A qualcuno, a chiunque sarà successo di trovarsi in un posto nella natura oppure in un tempio del passato, in qualsiasi posto in cui emana veramente qualcosa di estremamente particolare, uno si sente bene e quello è un posto che si può dire che ha veramente qualcosa di eccezionale. Ci sono questi posti a Creta. Il personaggio è appunto Zagreo, il greco, che è appunto di Candia. Si può vedere la benda nera, che era in un certo senso una specie di distintivo, dei cretesi, si vestivano di nero. E questo personaggio è un personaggio che fa un po' tenerezza, perché in realtà lui è un irriducibile, una di quelle persone che sono coerenti e vanno fino in fondo e praticamente a qualsiasi prezzo. E questo è un qualcosa che poi farà una fine non bella e questo è un qualcosa che fa apprezzare. Bene, bene. Loro di San Marco, romanzo di Pietro Favero, CR, vedo, grafica, questa è la casa editrice, è un libro che si legge, anch'io l'ho letto prima di preparare la puntata, l'ho letto in poco tempo perché il linguaggio è agevole, è scorrevole e scrive bene, scrive bene il dottor Favero e si legge anche appassionandosi. Adesso però dobbiamo scoprire perché conta per chi la chimica, l'alchimia, è dei giovani, è il mare, è le dubbiel, però ragazzi ci sono personaggi femminili qua dentro? Sì, se no sarebbe triste. Oh, l'amo. Ci sono storie d'amore sul dispiagno, sul dispiagno, sul dispiagno. È un romanzo, è un romanzo. Pensiamo che era l'epoca con Federico II dell'amor cortese. Certo, certo. C'erano i poeti della scuola siciliana, Jacopo D'Aventini e quindi... Una storia d'amore. Impossibile perché era un popolano che, diciamo, si era innamorato di una nobile. È la principesa. E quindi noi sappiamo che all'epoca la sua storia era molto rigida e il protagonista, o comunque chi si azzardava a compiere così questi atti, diciamo, rischiava come minimo di finire in una galera a remare tutta la vita popolano. No, sì, questo è per richiamare... Per richiamare... Anche se è di un'epoca successiva. È mica tanto, è mica tanto, perché agli inizi del XIV secolo, agli inizi del XIII secolo, Dante compone, religie, presso a poco la Divina Commedia. Quindi è la stessa cosa. Il quinto canto dell'Inferno, con quello sventurato di Gianciottomo alla testa, con la caletta, le pronte copate. Pronto con la spada. Arrabbiatissimo. Eccola la bufera infernale che viene descritta da Dante, la bufera infernale. Mi stai facendo emozionare perché io ritorno ai miei suoi. Però adesso io emozionerò, io no, la Barbara, il pubblico perché, perché Barbara. Lesi, lesi, lesi. Dai. Tu sei tutto matto. Ecco là. Esclama ridendo. Sarà. Ma mi avete fatto andare fuori di testa. Mormoro fissandola dritto negli occhi. Lei si morde le labbra. E mi scrutta con la coda dell'occhio. Sì, sì, sì. Per fortuna che non c'è mio marito. Altrimenti ti farebbe scorticare vivo. Ti ho detto ma. Io vi amo. Accostandomi con la voce carica di emozione. Proprio un bel guaio annuisce guagliando il tono della mia voce. Oltre e più dell'amore, io sono una cosa sola con voi. Acqua della vostra acqua, goccia del vostro mare. Eh, qui non c'è principessa. Eh, qui è Dante e Beatrice. Eh, buoni, ma non c'è principessa che tenga. Perché, ascoltami bene, te adesso devi avere la bravura di fare intuire. Non raccontare i dettagli perché siamo in fascia protetta. Non si può fare. No, no, no. Però devi raccontare. Viene scoperto, non dal marito, e da lì continua la fuga. Sì, ma eternamente in fuga questo personaggio. Però, quando lei si sente dire, io sono una cosa sola con voi, acqua della vostra acqua, goccia del vostro mare, insomma, le resistenze si affievoliscono sempre di più. Può essere un po' volano, ma uno che parla così. Lei è la principessa. Come si chiama la principessa? Rezzi. Ah, è famosissima. È una popolana, una cornaro, di una famiglia veneziana. Bellissima, bellissima. Vediamo la prossima fotografia, che non è certo quella di... Ah, ecco, ecco, ecco. Questo è il panorama. Vedi, vedi che siamo... E questo è un po' il mio campo di battaglia. Io già in un saggio, la Dea Veneta, avevo parlato degli antichi veneti. L'aggancio nel romanzo è attraverso il greco, perché stando in prigione il greco narrerà tutte le storie degli antichi popoli e quindi anche degli antichi veneti. Una storia che gli stessi veneti non conoscevano e non conoscono. Il greco parla di quei veneti dell'Anatolia che avevano partecipato alla guerra di Troia e che poi, sconfitta Troia con Antenore, erano arrivati fino all'Adriatico e fino a fondare Padova. E quindi il tema delle origini dei veneti viene affrontato anche nel romanzo. Noi dobbiamo focalizzare una cosa importante, che vicino a Troia, lo stretto del Bosforo, era impossibile, impraticabile. Nessuna nave al mondo avrebbe potuto superarlo perché aveva delle correnti fortissime all'epoca. Solo più tardi, navi più potenti poterono forzare lo stretto. Quindi, qual era lo sbocco di queste popolose città del nord dell'Anatolia, del nord della Turchia? I grandi fiumi dell'Ucraina, che erano come le autostrade del passato. Attraverso di là, ipotesi, i veneti avrebbero raggiunto il Baltico e poi dal Baltico sarebbero scesi fino al Veneto attuale. Attraverso cosa? Attraverso una via commerciale che è la via commerciale dell'Ambra. Bellissimo, questa è un'interpretazione sicuramente interessante. Barbara, leggeo la città di Troia, Antennone, dai, leggiamo il passo. Una alla faccia, una alla razza, non è il vostro proverbio? Si alza in piedi irritato. Eh no, ti sbagli di grosso. Greci e veneziani sono ben diversi e da sempre in lotta l'uno contro l'altro. Fin dai tempi della guerra di Troia. La guerra di Troia? Che c'entra? Gesticolo sollevandomi a sedere. Ah certo, scuote la testa. Voi stessi non lo sapete. Omero citò la vostra alleanza con i troiani quando ancora i veneti erano insediati vicino a Troia, in Paflagonia. Paflache guidava i Pafalagoni, il forte cuore di Pelemene, dalla Veneta Terra, dove nasce la razza delle mule selvagge. Il fatto dei cavalli è un qualcosa che ha legato sempre i veneti fin dall'inizio. Erano famosi ovunque per i cavalli di una razza purissima, erano velocissimi, vincevano sempre le Olimpiadi. Quindi dove c'era questo culto dei cavalli noi trovavamo molto spesso i veneti. I veneti. Allora, il tutto si trova, e lo ripeto ancora, in questo volume che non è proprio un libricino o un libello, è spesso, si tratta di 350 pagine. Eccolo qua, l'oro di San Marco, Piero Favaro. La copertina è di Alessandro Dosualdo? Sì, che racconta le vicende, mistero, avventura e amore, naturalmente le isole greche, si parte da Venezia, le isole greche, grazie. Eccolo qua, il volume, ringrazio, quindi visto che ne ho occasione i nostri tecnici qua, soprattutto Alessandro, alle camere e il regista Maurizio che è lassù, lui ci guarda dall'alto, naturalmente. Senti, c'è un riferimento alla crociata, no? Anche alla crociata del 1204 che dovrebbe essere in ordine di tempo, cronologico, la quarta, mi pare. Sì, esatto. Che giudizio si evince, che giudizio emerge sulle crociate? Ma secondo alcuni, le crociate erano un pretesto per le ambizioni di potere e di ricchezza dei papi e dei nobili europei. Secondo altri, è una versione opposta, era in realtà una guerra difensiva contro l'avanzata dei musulmani. Io non voglio entrare nella questione, voglio stare fuori, perché è una questione molto spinosa, è difficile essere obiettivi. Io penso che analizzando ogni singola crociata si può appunto capire qual era lo spirito, quali erano gli intenti. Per la quarta crociata c'è stato qualcosa di molto particolare. Abbiamo la partenza da Venezia, 200 navi, questi crociati che cantavano il Veni, creato Spiritus, tutti con le armature luccicanti, con questi veli colorati. Era uno spettacolo stupefacente, sembravano degli angeli. Poi cos'è successo? Che non erano abbastanza numerosi e quindi i veneziani non avevano il denaro che avevano patuito, mancava molto denaro. E allora cosa hanno fatto i veneziani? Hanno detto, vabbè, partiamo lo stesso, però facciamo una prima diversione. Voi crociati dovete andare a Zara e saccheggiarla, perché è una città nostra rivale. Venezia era una città-stato, non tollerava la concorrenza di altre città, così venne saccheggiata Zara. Poi, non contenti, questa crociata che doveva arrivare fino in Palestina, in realtà ha fatto una nuova diversione e si è fermata a Bisanzio, che era una città splendida, eccezionale. E diciamo è stata ossediata e poi i veneziani sono riusciti a troncare la catena che bloccava l'estuario del Corno d'Oro. Hanno bruciato a dura dura le torri e poi il primo a sbarcare a Bisanzio fu il doge Enrico Dandolo, ottantenne, cieco, però con la spada in mano, fu il primo a scendere e a conquistare Bisanzio. Ecco, questo è interessante. Sentiamo Barbara, sentiamo allora, perché c'è sicuramente un riferimento. Comincio cautamente col domandargli se è un'idea di quanto abbagliante fosse lo sfarzo di Bisanzio, la fiera magnificenza dei suoi monumenti, l'aristocratica bellezza dei suoi palazzi, la ricca moltitudine dei negozi, dei magazzini esorbitanti di mercanzie. Non esisteva al mondo città più nobile e raffinata, non un polo di attrazione più fulgido. Ebbene, i vandali a confronto dei cristianissimi crociati avrebbero fatto meno danno. Per tre giorni la popolazione fu martoriata da rapine e violenze di ogni genere. I cittadini a migliaia furono uccisi senza motivo e ai più irriducibili vennero ficcati rospi in gola. Una morte orribile. I crociati assalivano i conventi, rincorrevano le monache per i corridoi, strappavano loro le vesti e le violentavano a turno. Si tratta di espressioni particolarmente... Crude? Sì, forti. Però sono storicamente documentate. Storicamente sono documentate. Sì. Vai, vai, vai. Purtroppo, sì. È ricorrente, purtroppo, nella storia che si parte con grandi ideali, eccetera, con ideologie, e poi queste, purtroppo, spesso sono le conseguenze che si verificano sotto. È chiaro, i veneziani avevano anche un interesse economico, perché si può dire che Bisanzio era stata la madre di Venezia. Venezia non era altro che una remota provincia bizantina. Però, col venire meno dell'impero bizantino e di Bisanzio come centro commerciale, come centro di potere, ecco che Venezia poteva ancora più esplodere, diventare la prima potenza marittima del Mediterraneo. In tutto questo, comunque, non c'è sotto un idealismo, ci sono motivi molto pratici, diciamo, di conquista. Oggi con una espressione B, affari, insomma, affari, il potere, il potere economico, non di guidare i popoli, ma l'imperium, no? Quello di comandare, che non è comandare, è un elemento della vita, guidare invece, governare invece è tutt'altro. E poi i veneziani, beh, insomma, storie, storie, senza voler esprimere valutazioni qui, che sarebbero sicuramente frettolose e anche un po' imprecise. Senti, quanto tempo ci hai impiegato te? E dopo ci hai impiegato mesi? Due anni, due anni. Due anni a raccogliere, a fare... Sì, perché c'è una documentazione storica. Eh sì, eh sì. La storia è quello che è, non si può cambiarla. Eh no, infatti sono quelli. Quindi quello che era già documentato io l'ho messo così com'era. Quindi attraverso una natura piacevole, divertente, uno si può riappropriare di quella che è la storia veneziana, anche poco conosciuta del Medioevo, che in realtà ha un ambito vastissimo. Sicuramente, sicuramente. Sicuramente e non è vero che furono mille anni all'ingrosso dalla caduta dell'impero romano d'Occidente della conquista dell'America, presa poco, mille anni di oscurità, tutt'altro. Sono ben vivi e luccicanti. No, il Medioevo era un'epoca molto colorata. Eh certo, certo. Andiamo all'ultima lettura, il messaggio del libro, ce lo legge Barbara. La regia ci fa vedere, non so se abbia ancora qualcosina, una foto, eventualmente ci fai vedere il frontispizio del libro e poi andiamo a chiudere. Vai Barbara. Questa esperienza mi ha cambiato profondamente. Ora non ho più interesse per le ricchezze terribili. Io domo. Ho fra le mani una coppa preziosissima. Sì. Se volessi venderla diventerei ricco all'istante. E invece, invece la restituirò a coloro cui era stata sottratta, la famiglia del Doge. Lo vedi, se ora Abramo dell'oro è soltanto quello filosofale, poiché la diretta conoscenza della prima materia vale più di tutto l'oro del mondo messo insieme. Piero, e qui è un concetto che vale mille, diecimila, centomila anni fa e varrà a centomila anni, cioè l'equilibrio. Vai, vai, vai. C'è qualcosa che vale più del denaro, che vale più dell'oro materiale e che è la pace interiore, la serenità, la conquista che viene da una ricerca interiore ed è alla portata di qualsiasi uomo. E questo è il modo anche per riscattarsi in un'epoca in cui l'uomo moderno è semplicemente una pedina di interessi superiori a lui, di chilo manipolo, eccetera. Può riacquistare la sua libertà solamente dall'interno, di se stesso. Dall'interno, di se stesso. Grazie, allora siamo giunti alla conclusione, in mezz'ora abbiamo attraversato l'Europa, siamo andati da Venezia al Friuli, al nord, ai mari e alle onde più stupende e meravigliose del mare greco in compagnia di Piero Favero, del suo saggio romanzo L'oro di San Marco e della voce accattivante di Barbara Bacchetti, lettrice, che è la moglie di Piero. Noi ci vediamo alla prossima settimana, grazie alla regia, mandi i fantasmi. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.